Comprare casa è uno dei tuoi proposti per il 2020 con la BCC Ribuccino e dei Comuni Cilentani Puoi finanziare il 100% dell'acquisto della tua prima casa 100% casa, 100% mutuo, a tasso fisso e fino a 30 anni Ti chiedilo in filiale o prenota un appuntamento online su www.bccbcc.it Siamo dove sei tu Scegli la tua filiale E seleziona il tuo prodotto È garantito dal fondo per la prima casa